la biofisica e medicina sembrerebbe quasi un assurdo la biofisica meglio la fisica è una materia scientifica molto precisa come voi sapete la medicina non è una scienza allora come si concilia il fatto della fisica dentro il corpo umano è che noi siamo fatti di masse la massa come voi sapete è la base del principio della fisica moderna vuol dire che il mio corpo mentre io parlo emette energie perché sono fatto di masse diverse ma guardate che considero tutte le masse non soltanto le masse degli organi interni se io riprendo la c1 che questa la c2 o vado alla s1 la s2 che è il terminale della colonna e quelle hanno masse diverse e quindi hanno energie diverse e attenzione però che se io applico uno delle leggi fondamentali della fisica quando in effetti esiste corrente cardiaca vuol dire che io produco campo magnetico cosa potrebbe succedere che voi recepite il mio campo magnetico questa parola di recepire vuol dire bio risonanza e quindi Grazie a tutti.